Buon salve amici cari pixelini e benvenuti bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter What's Mystery, mamma mamma mao, siamo pronti a partecipare alla seconda prova di questo torneo Completa Maghi, mamma mamma mao, quanta robina ragazzi, io già prevedo la sofferenza, prevedo già un sacco di sofferenza Perché cioè veramente io non ho idea di cosa potrebbe succedere, mamma mamma mao, eccoci qua Clicchiamo il bussantino e partecipiamo alla seconda prova del torneo Completa Maghi Prevedo veramente tanto trash, ma veramente, oh no cos'è sta roba qua, eh sì, super trash davvero mi sa Qualunque cosa stia succedendo qui, sarà meglio per voi che non mi roviniate il campo Beh, il campo innanzitutto non è tuo e serve a noi per allenarci per il 15, quindi stia tranquillo, Gaza, che non lo rovineremo assolutamente Mi aspetto di vedere delle ultime abilità di volo in questo torneo Mmm, abilità di volo, allora io vedo delle cose lì sotto, lì in fondo, che non riesco a capire cosa sono perché sono piccoline Mi sembrano dei piccoli spalti di Hogwarts, dei micro spalti di Hogwarts, tipo Uh, vedo delle scope, mi sa che si deve volare qui, molto interessante Io sarò quella che farà il tipo più forte, spero per me e non per tutti, però, perché c'è Penny Con me, non con il mondo, e che cavolo Ah, ok, allora vedo, oh no, quei cose sono in gabbia, dobbiamo scappare da quei cose? Ci sono così tanti studenti qui, sono tutti qui per noi? Probabilmente hanno sentito che sarebbe stato pericoloso, a tutti piace assistere ai disastri A me non piace assistere ai disastri, eh, sì, ma a tutti quelli come Ismelda, semmai, eh, che cavolo Neanche io Quindi sono solo io? Oh oh, c'è merdura Sembra che dovremo volare Fai attenzione lassù Merdula, mi stai minacciando perché ho rifiutato la tua proposta di allearci per questa prova E in quel caso, ragazzi, se voi avete scelto invece di allearci con lei Fatemi sapere che cosa è successo e cosa succederà e se merdula ci aiuta veramente Oppure se ho fatto bene a dire, no, guarda, non voglio allearmi con te, fatemelo sapere assolutamente qua sotto Magari sto solo dando un consiglio a un compagno concorrente Ognuno di noi deve vivere con le proprie scelte Balboa Mi sta spaventando E non poco Che bello che ci siete tutti per la seconda prova del torneo Completa Maghi Ho molta paura Il vincitore di questa prova totalizzerà 300 punti L'ultima prova valeva solo 100 punti Uno di noi potrebbe passare in testa o là O magari restare al comando Prima di iniziare, vi ricordo che chi ha più punti dopo tre prove vince la coppa Completa Maghi Però fatemi, fatemi, cioè, chiedere La prima vale 100 punti E ok La seconda vale 300 punti Io spero che la terza non valga tipo 500 punti Perché a quel punto le prime due sarebbero inutili Però vorrei capire come fanno a dare il punteggio della terza Boh Ora devo avvisarvi Ho aumentato le difficoltà e il pericolo del prossimo compito A livello delle prove del torneo Tre Maghi Così dovrebbe essere Questa prova è una sorta di percorso ostacoli aereo Il primo concorrente a catturare il Pixie vince Ma non... il Pixie di solito non ci attacca Quindi, cioè, tipo... non capisco Percorso ostacoli aereo Io non vedo niente da su C'è ancora molto riguardo a questa prova Signor Lee C'è da vedere molto Ma prendere un Pixie? Abbiamo detto che il torneo Tre Maghi aveva prove come catturare un basilisco Correre per catturare un singolo Pixie Non è poi così pericoloso Ci risiamo con le sciocchezze di Hagrid Mi sa che dovete salire in cielo e vedere da voi C'è solo un Pixie da catturare Siate coraggiosi Siate intelligenti E fate attenzione Noi vi staremo a guardare Assieme a tutta Hogwarts Via! Ho un po' paura E spero che ci sia qualcosa da fare qua E che non sia soltanto queste scope che Cosa stanno facendo? Ah, aspetta Le scope sono Benvenute al primo ostacolo Superate un maleficio capitombolo Quelle scope hanno dei problemi 8 ore! Anche io ho dei problemi adesso Mamma mamma Ragazzi Ok D'accordo Sembra che le scope stiano laggando Rocky ce la puoi fare a prenderla Dai prendila Rocky Non è certo la prima scopa che mi scappa Male, male, male Malissimo Plende le mie scope Pixie Come? Eh, come Con Avada Kedavra Avada che scopa? Guardare queste scope mi sta facendo girare la testa Come te quando giravi attorno al tavolo degli Stasi Odio questa prova Eh, io odio te però Pazienza Come posso catturare quel Pixie Se non riesco nemmeno ad afferrare la mia scopa? Eh dai Stupida scopa Non ho inventato nessun incantesimo Per contrastare questo maleficio Vieni qui scopa Vola da me Mi sa che abbiamo quasi finito il dialogo secondo me Questo è divertente? Beh, per chi guarda sicuramente Spero che i miei fratelli non mi stiano guardando Andiamo a vedere se sarà il pubblico Il pubblico Il pubblico Il pubblico Non mi sembra di vedere Fred George Weasley E poi non c'era Non doveva esserci tutta Hogwarts Ci sono 20 persone Ce l'avevo quasi fatta La scopa mi è scivolata dalle mani Non è certo la... Ok, ragazzi Direi che il dialogo finisce qua, vero? Pensa come si controbatta un maleficio capitombolo Finite incantate Questo era nuovo In realtà non è finito qua tutto Potrebbe esserci ancora qualcos'altro Ok, questo abbiamo già letto Andiamo a vedere L'ultimo giro Dei personaggi Per vedere se c'è qualcosa di nuovo Anche se mi sembrerebbe che Forse soltanto il nostro dialogo C'è qualcosa in più Perché siamo il protagonista No, anche qua abbiamo letto tutto Quindi ragazzi Mentre io ora farò off camera Tutto ciò che mi manca E ci vediamo A frappè E già che ci siete Lasciate un mi piace Mamma mamma Ma ho cinque stelline Ce l'abbiamo fatta Che faticata ragazzi Veramente che faticata Ma finalmente Abbiamo forse superato la prima parte A seconda prova Perché alla fine Abbiamo soltanto preso la scopa Ok, siamo riusciti a salire sulla scopa Ok, ok Allora, vediamo un po' Ah ma Ma scusate Cioè prima saliamo sulla scopa E poi finite incantatem Non potevamo lanciarlo subito Sulla scopa Prima di salireci Boh, vabbè Finite Incantatem Non funziona? Sì, funziona, ok E ora Acchiappiamo col pixie Per ora siamo i primi A averlo fatto, eh Aia Anche Merula No, no Che Merula è ancora lì Ah, accidenti Anche Merula è lì in mezzo Uh Speriamo che dobbiamo avere Un minimo di Un minimo di 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 scelta Arriva Andre Arriva Andre No, no, no Aia Eh, no Però aspettate Aspettate Però se escono tutti i pixie Come facciamo a scegliere? C'è qualcosa che non va Ci sono troppi doxy Ah, sono doxy Non pixie, giusto Beh, a questo punto Il primo che lo prende Vince Dai, il primo Ma non erano velenosi? Ecco, appunto Eh, no, 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 no Cavolo Ha vinto Andre? Dobbiamo portare questi studenti In infermeria Eh, sì Però io ho perso Questa sfida Ragazzi Ragazzi Ho perso la sfida Cacchio Tutti i feriti Sono stati curati Ora puoi fare visita A tuoi amici In infermeria Ma sono un po' triste Ragazzi Abbiamo perso Cioè Avete visto? Cioè Porca di quella paletta Ho perso la seconda sfida Però continuo a dire Continuo a dire Mentre andiamo a dare da mangiare Al testral Che Ragazzi Io non Non ho avuto nessuna scelta In questa cosa Fatemi sapere Nel caso che invece Noi avessimo collaborato Con Merula Ci sarebbe stata Un minimo di scelta in più? Avremmo potuto avere Una scelta O qualcosa? Cioè Sarebbe stato diverso? Sarebbe stato uguale? Fatemelo sapere assolutamente Perché a questo punto Io sto cercando di capire Ma Qual è lo scopo Di questo torneo? Perché Non c'è la possibilità Ok ho vinto Ok ho perso No È una scelta Cioè è una storia Prestabilita Senza Possibilità di Cavolo C'ero quasi A livello 2 Peccato E quindi sono un po' Curioso di questa cosa Quindi fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Nel mentre io Direi che per oggi è tutto Ci vediamo Una pressa puntata Di Repotequals Mystery Dove andremo a A andare in infermeria E probabilmente anche a finire La parte 3 E per poi andare A prepararci Ad essere pronti Alla sfida Finale Mamma mamma Ci vediamo Una pressa puntata Di Repotequals Mystery Mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per non perdere Tutti i cavolo Di video fantastici Che tutti i giorni Escono sul mio canale Dal lunedì Al venerdì Direi che per oggi è tutto Che altro dire Fatto Il Mi sgatto Mammao Ciao a tutti i giorni Ciao a tutti i giorni Grazie a tutti i giorni